Ciao a tutti! Oggi prepareremo le crescentine. Il tempo di preparazione della ricetta è di tre ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo zero, latte, acqua frizzante, strutto, lievito di birra fresco, zucchero, sale. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, lo zucchero e il lievito. Ed azionare il bimbi per due minuti. 37 gradi, velocità 3. Aggiungere lo strutto, la farina, l'acqua frizzante, ed il sale. Ed impastare in modalità spiga per quattro minuti. Trasferire l'impasto in una ciotola unta con olio, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per almeno due ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto, trasferire su un piano di lavoro infarinato. Estendere con il mattarello formando un rettangolo spesso circa 3-4 mm. Con l'aiuto di una rondellina, tagliare la pasta formando dei quadrati di circa 5 cm. Friggere in costrutto olio di semi ben caldo fino a doratura. Crescentine, grazie e alla prossima ricetta. Crescentine, grazie e alla prossima. Crescentine, grazie e alla prossima.